Direttore, si parla tanto di sanità in queste settimane, ma qual è lo stato di salute nelle prestazioni, nei servizi della sanità nel nostro territorio? Ci sono molte parti dei nostri servizi, soprattutto quelli ospedalieri, in cui abbiamo gravi carenze di personale. È un concetto che ho già avuto occasione di esprimere, ma ho voluto ribadirlo oggi alla rappresentanza dei sindaci che sono responsabili della salute dei cittadini. Le difficoltà a cui andiamo incontro sono carenza di medici in molte specialità, in particolare i pronti soccorsi, che hanno la metà della dotazione come dipendenti, abbiamo solo la metà dei medici necessari, ma anche le ortopedie, soprattutto oggi quella di Domodossola, le pediatrie, l'ostetricia, ginecologia, ma anche critici datali abbiamo in neurologia e in altre specialità. Per cui è veramente difficile, per cui il nostro sforzo è comunque di garantire i servizi come devono essere fatti, a volte spesso ricorrendo a medici non dipendenti, ma medici cosiddetti gettonisti o forniti da ditte private. In questo senso c'è stato anche un richiamo, se sbaglio, da parte della Corte dei Conti sull'utilizzo dei gettonisti, e le chiedo anche, l'eventuale ospedale unico, nuovo, non entriamo nel discorso dell'ubicazione, risolverebbe una volta per tutte questi problemi? Io spero soprattutto che negli anni che ci separano da un nuovo ospedale la situazione dei medici migliori, cioè che a partire dal governo centrale, poi le regioni che si stanno già muovendo, la nostra regione in particolare, per ampliare il numero di giovani medici in specializzazione che possono entrare negli ospedali e essere assunti, e sia a incrementare anche un pochino il numero degli iscritti a medicina, in modo tale ad avere un numero più alto di medici. Per cui da qui al nuovo ospedale mi auguro, ma confido, visto anche gli sforzi della nostra regione e del governo, di poter avere poi una dotazione migliore.